Si muove e come il mercato di delettanti Irpini. Arrivano le ufficializzazioni in casa Lions Grotta, la scuola di mister Rino Cricitello fa spesa in casa dell'Era Clea. Tanti giocatori che hanno giocato nella scorsa stagione in quelle precedenti a Candela, come Francesco Pio di Innocenzio, Cristian Santoro, Michele Caevano, ancora Giuseppe Cimino, nella passata stagione al Mensola in Emilia Romagna, ha giocato anche nel Bisceglie, poi Alessio Petrillo, anche lui ex Reclea. In attesa delle firme degli ex Cazzo e Franci, Ciampolillo e Volzone, Giallo Rossi pongono le basi per il futuro. Manna resta alla guida del Cimitile, l'ex tecnico del Baiano continuerà a guidare i Granatieri, mentre altri tre baby per il San Martino di Mario Loiaco, Giovanni Mazzone, Luca Tirino e Maurizio Zappiello. Felice Ferraro invece porta l'esperienza ai Caudini, visto che ha giocato in promozione già con le maglie di Castelpoto e di Montesarchio. L'ex Bellizzi, l'argentino Montemarani, ha firmato in eccellenza con il Buccino. Doppio colpo per il Rocca San Felice di Mister Cosco, che ha annunciato di aver trovato l'accordo tra la stagione sportiva 24-25 con i calciatori Camo Barrow e Carmine Raffaniello. Raffaniello ha un trascorso importante nel calcio del Tantirpino, infatti ha difeso i pari dello Sporting Lioni e della Polisportiva Lioni.